Lorella Cuccarini è la più odiata nella casa del GFVIP, ecco le parole al veleno di Zorzi, Ruta, Brandi e Stefania Orlando, video. Lorella Cuccarini è la più amata dagli italiani? Un tempo, forse, oggi, le cose sono completamente cambiate e, anche all'interno della casa del GFVIP 5, gli inquilini hanno speso parole dure nei confronti della showgirl. Ma cosa hanno detto Matilde Brandi, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando? Scopriamolo insieme, leggi anche, addio Cuccarini, la RAI le toglie anche lo zecchino d'oro. Lorella Cuccarini, al GFVIP non la sopportano. Grande protagonista del GFVIP è Lorella Cuccarini. No, non ha varcato la porta di Cinecittà, ma gli inquilini della casa hanno parlato di lei, con parole tutt'altro che lusinguere. Ecco, ad esempio, cosa ha detto Matilde Brandi, leggi anche, Lorella Cuccarini contro i gay? Eder Parisi la distrugge, i fatti non si tira indietro Tommaso Zorzi, che a proposito della Cuccarini dice, tutti contro Lorella Cuccarini, parlano Ruta e Orlando ma non è affatto finita qui. Ecco le parole di Stefania Orlando sulla Cuccarini, e infine, ecco le parole di Maria Teresa Ruta, HTTPS 2.. www.it-wp-content-uploads-2020-10-bc.it-120.803.985-669.262.770.380.520. trattino basso 2 trilioni e 782 bilardi 474 bilioni 240 miliardi 68 milioni 502 mila 647 trattino basso n mp4 ringraziamo la redazione di bici per il video e infine grazie per aver guardato il video si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità ci vediamo nei prossimi video